Ciao ragazzi di Eobike, congratulazioni per il vostro traguardo raggiunto e grazie mille per quello che fate per noi atleti e per divulgare il nostro sport tramite i vostri video che sono una figata, quindi grazie mille, continuate così e ci vediamo presto su Campi Gara. Ciao ragazzi, buongiorno, è una bellissima giornata di allenamento oggi, mando gli auguri al staff dell'Eobike che ora ha raggiunto i 5.000 iscritti su YouTube e voglio ringraziare loro per tutto il lavoro che stanno facendo loro e chiaramente il loro staff dietro, per noi e per tutti gli appassionati bikers. Grazie, buona giornata. Ciao, volevo farvi tanti auguri. Ciao a tutti, sono Jacopo Billi della Scott Racing Team e sono qui per fare i complimenti ai ragazzi di Eobike per il grande traguardo raggiunto dei 5.000 iscritti sul loro canale YouTube, quindi continuate così perché state facendo un ottimo lavoro e voi continuate a seguirli sul loro canale. Un saluto a tutti, ciao. Ciao a tutti gli amici di Eobike, complimenti per il raggiungimento dei 5.000 iscritti. Vi auguro di raggiungere tanti altri traguardi e soprattutto vi ringrazio per l'ottimo lavoro che svolgete e i bellissimi video che mettete su YouTube. Continuate così. Un saluto. Un saluto a tutti gli appassionati di Eobike e con questo video vi voglio complimentare con lo staff per l'obiettivo raggiunto dei 5.000 follower e auguro veramente di raggiungere obiettivi molti più alti. Come ex atleta e ora come guida turistica vi vedete nel mio ambiente naturale di lavoro. Un caro saluto e a presto. Ciao a tutti, ci tengo a fare un grande in bocca al lupo al canale Eobike per i 5.000 follower raggiunti su YouTube e ci tengo a ringraziarli per renderci protagonisti a ogni manifestazione. Ciao, congratulazioni per il vostro piccolo step raggiunto con il vostro canale Eobike dei 5.000 abbonenti e vi auguro il meglio per il vostro futuro e che continuate come fino adesso. Ciao.